fai to la prima neve di primavera parafrasando un vecchio film che il cui titolo era se non ricordo male l'ultima neve di primavera qua è successo che per questo tempo metriologico questo inverno 2015 2016 la prima neve qua sul fai to l'abbiamo avuta quasi alle soglie della primavera ne abbiamo ne abbiamo 10 tra poco arriverà il 21 marzo eccola tutto il fai to imbiancato la faggetaia